Lunedì 19 novembre, Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno di presentazione del progetto BES, Benessere Equosostenibile. La ricerca, realizzata a livello nazionale con un anno di lavoro da CNEL, ISTAT e per il Piemonte della consulta femminile, si inserisce nel dibattito internazionale sul superamento del PIL. Il progetto è basato sulla convinzione che i parametri con cui valutare il benessere della società non debbano essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale. Il problema non è se sia importante o no, è che si può integrare il PIL, non scartarlo, ma mettere insieme al PIL altri tipi di valutazioni che sappiamo essere importanti per lo stato di benessere della società. Allora il problema è stato come integrare il PIL, si siamo posti questo problema e stiamo studiando 12 cosiddetti domini, cioè settori della vita sociale che sono risultati importanti perché la gente stia meglio e su questi abbiamo lavorato con degli indicatori.